Assessore Pace, stamattina di nuovo in protesta gli agricoltori e le associazioni di categoria in testa la Col di Retti. Tutti lamentano una mancanza di comunicazione con il sindaco e con l'amministrazione. Allora, in realtà questo non è assolutamente preciso perché io mi ricordo benissimo che è talmente recente la cosa, quindi sabato scorso, siamo stati 5 ore in realtà all'interno del question time che l'amministrazione comunale fornisce, mette a disposizione dei cittadini ogni secondo sabato del mese. Tra le diverse interpellanze c'era anche questa sulla discarica di Campolescio, promossa dal comitato Camerata per la chiusura della discarica di Campolescio e abbiamo, diciamo, investigato il problema, almeno io ho cercato di spiegare con la massima chiarezza qual è la posizione dell'amministrazione, che è quella di non essere contraria alla chiusura della discarica qualora si riuscisse a trovare la capacità economica per poterla chiudere e tombare. Ad oggi questa capacità economica non c'è, quindi sono molto dispiaciuto di quello che è successo questa mattina perché le cose sono state spiegate in maniera dettagliata. Tra l'altro il sindaco ha mantenuto fede a quelle che sono state le sue promesse perché ha inviato una missiva datata 4 marzo al prefetto chiedendo la convocazione di un tavolo per discutere di queste problematiche. E in questo tavolo quale occasione migliore per mettere in chiaro quelle che sono le opere che l'amministrazione sta facendo. Opere per la messa in sicurezza della discarica, che era una ferita aperta nel cuore di Castrovillari per una decina d'anni e all'interno di queste opere di risanamento c'è anche la possibilità di avere l'illuminazione, la strada, ma queste sono a compensazione ambientale per quell'area lì. E noi non stiamo assolutamente andando contro quella che è la salubrità, ma la stiamo mettendo in sicurezza. Quindi la richiesta al prefetto è stata formulata. Stiamo attendendo questo tavolo per poterci confrontare e per poter trovare delle soluzioni, ripeto, che devono essere delle soluzioni economicamente sostenibili. Perché in questo momento noi non stiamo dicendo che la discarica sarà aperta domani. Stiamo facendo soltanto i lavori che sono stati finanziati dalla comunità europea per la messa in sicurezza. Dopo che sarà messa in sicurezza si valuterà la possibilità di aprirla e colmarla per la quantità di materiale che dal nucleo via è stato garantito e basta sostanzialmente. Questa è la volontà. Però qualora si possano trovare delle capacità economiche per poterla chiudere l'amministrazione tutta è d'accordo sulla eventuale chiusura delle tombature.